Annalisa ha fatto impazzire tutti i suoi fan, pubblicando una foto con una sensualità super e facendo una particolare promessa, vi ricordate quando Annalisa era una delle concorrenti di Amici di Maria De Filippi? La sua voce era ugualmente incantevole, ma quella ragazza timida, un po' impacciata non aveva nulla a che fare con la donna che vediamo oggi. La cantante ha collezionato un successo dietro l'altro. Una partenza molto lenta la sua, ma poi ha spiccato il volo. Infatti, ha superato tantissimi suoi colleghi che, una volta terminato il talent, avevano venduto molto dei loro dischi. Adesso lei non ha nulla da invidiare a nessuno. Si è affermata nel mondo della musica, ha partecipato a diversi festival di Sanremo ed è diventata anche una bomba sexy sui social, chi l'avrebbe mai detto? Testimonial di Trussardi, sempre molto sexy, sensuale, affascinante sia sul palco che dal suo profilo Instagram. Insomma, un'artista che coinvolge e stupisce ogni giorno i suoi fan. Lo ha fatto anche poco fa. Con una foto super sensuale ha annunciato che deve dire qualcosa di importante. Poco fa la strepitosa cantante dai capelli rossi ha lasciato senza parole i suoi fan con un post e una foto che è super sensuale. Come potete vedere anche voi dallo screenshot riportato qui nell'articolo, Annalisa si tocca i capelli e guarda verso il pubblico con uno sguardo davvero molto provocante. Porta un completo intimo di pizzo bianco, degli stivaletti neri e sopra una giacca che scende sulle spalle. Inutile dire che i suoi fan sono esplosi di gioia, la temperatura su Instagram si è alzata di parecchio. Alcuni hanno anche usato qualche imprecazione nei commenti per quanto è stato colto alla sprovvista. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Grazie a tutti.